Nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili il Comune di Viareggio ha presentato l'iniziativa dell'Associazione Salute in Comune che domenica 9 marzo porterà in piazza Campioni due mezzi per lo screening del tumore al seno dedicati alle donne da 20 a 44 anni, la fascia di età in cui non c'è ancora la chiamata dell'ASL per la mammografia ma in cui è possibile fare una diagnosi estremamente precoce in caso di tumori. Età pre-screening in cui le donne possono avvicinarsi agli esami, conoscere il proprio seno e avere un'opportunità di diagnostica già direttamente in piazza scoprendo così quanto è importante la prevenzione e scongiurando insorgenze che potrebbero se rimandate essere complesse e portare quindi a delle cure pesanti che invece così vengono evitate. A presentare l'iniziativa l'assessore al sociale Sara Grilli e il consigliere Duilio Francesconi, primario di senologia dell'ospedale Versilia, che ha sottolineato l'enorme importanza della cultura della prevenzione e di iniziative come queste sul territorio. Tumore piccolo per cui si sopravvive e si vive e si guarisce. Tumore grande ti crea un impatto importantissimo sul paziente, sulla sanità e in ultimo se uno va a vedere ben bene anche sull'economia sanitaria di un paese. L'appello dell'associazione adesso è rivolto alle aziende del territorio per farsi partner e consentire la copertura delle spese necessarie. Nulla di questo potrebbe esserci se non grazie alle imprese che sostengono diventando partner e finanziando tramite fundraising l'iniziativa, quindi affiancando il loro logo, il loro marchio. Invito chiaramente tutti gli imprenditori e le imprese del territorio a farsi avanti, a partecipare in prima persona sia donando sia poi venendo a trovarci in piazza e partecipando anche agli esami.